Passiamo alla questione migranti. Ieri l'intervento di Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, durante la messa celebrata per ricordare le vittime dello scorso 20 ottobre. Le autorità prendano le misure adeguate, ha ammonito l'arcivescovo. Sentiamo. Era il 20 ottobre quando a Taranto è approdata la nave spagnola Rio Segura con 633 profughi provenienti da Nigeria, Ghana, Camerun, Togo, Mali e Burkina Faso. Insieme a loro le salme di otto migranti, sette ragazzine ed un ragazzo, tutti classe 98-99. Ieri a Taranto, nella chiesa del cimitero cittadino, l'arcivescovo della diocesi Ionica, Monsignor Filippo Santoro, ha voluto ricordare le otto vite spezzate in una messa celebrata insieme a tanti ragazzi africani, ospiti delle strutture di prima accoglienza della città e degli Sprar. C'erano anche la sorella, il fratello di due delle vittime, un gesto voluto in concomitanza con l'apertura del giubileo della misericordia in Africa. Questi giovani erano cristiani, ha affermato Santoro, e per questo abbiamo deciso di ricordarli con una messa. Ma noi siamo qui per pregare per tutti i morti in mare di ogni etnia e religione. Nel 2015 sono stati più di 3.000. Chiediamo la pace del Signore per queste otto vittime e per tutti coloro che hanno perso la vita, cercando di arrivare in Europa e supplichiamo Dio che illumini le menti delle autorità perché prendano misure adeguate affinché fatti di questo genere non accadano più. La celebrazione è stata animata con canti africani dal gruppo missionario Akusimba. Prima della fine del rito i ragazzi musulmani presenti alla messa hanno voluto recitare le loro preghiere per commemorare i dispersi in mare e chiedere a Dio la pace.